Aumentano le denunce di infortuni sul lavoro 440.451 più 41,1% sono 569 morti meno 16%. I numeri forniti da Linail rispetto ai primi sette mesi del 2022 tra le regioni con maggior numero di morti la Toscana, il Veneto, la Sardegna, la Calabria e la Sicilia diminuiscono in Campania, Puglia e Abruzzo per gli infortuni le percentuali più alte invece in Liguria, Lazio e Campania. Le denunce per malattie registrano principalmente patologie del sistema osseo-muscolare, del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell'orecchio. Grazie per la visione!